Ciao a tutti! Oggi prepareremo il couscous con gamberi e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono couscous precotto, acqua, gamberetti, succo di limone, granella di pistacchi, olio, sale, pepe, aglio, pesto di pistacchi e foglioline di menta fresca. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere i gamberi. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua, il succo di limone, 20 grammi di olio, sale e pepe. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Azionare il bimbi senza tempo e senza temperatura con l'anti-orario a velocità 1 e dal foro del coperchio, pian piano aggiungere il couscous. Lasciarlo mescolare per 10 secondi. Fermare il bimbi, chiudere con il misurino e lasciare riposare per 5 minuti. Trasferire in una ciotola capiente. Sgranare con una forchetta. Aggiungere i gamberetti. Il pesto di pistacchi. e la granella di pistacchi. Amalgamare bene. Servire decorando con le foglioline di menta e la granella di pistacchi. Couscous con gamberi e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.